Ingeria Rocco Caramuscio, già gareggiato come candidato sindaco alle amministrative di Pisticci per la lista dei cittadini, ora è fuori dalla competizione ma non fuori dalla politica? Certamente no, sono convinto che la politica si può fare soprattutto nelle piazze insieme alla gente e questo è stato già precedentemente il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo cercato sempre di chiedere partecipazione alla comunità e certi risultati si sono ottenuti grazie all'intervento delle persone, dei cittadini che hanno tutelato i loro interessi. Se penso a quello che è stato l'intervento di un gruppo di cittadini di Tinchi in un consiglio comunale a Pisticci, per quanto mi riguarda è stato storico, significa che la gente incomincia a capire che deve interessarsi direttamente senza dare alcuna delega in bianco. Ieri sera nel corso di un affollato comizzo il candidato sindaco Vito Di Trani si è espresso in termini molto positivi sull'ex candidato Rocco Caramuscio, ha parlato di un avversario molto coerente, molto leale, dovrebbero essere tutti così politici? Guardi, l'attestato di stima da parte del dottor Di Trani mi gratifica. Credo che questo doveva essere e deve essere il tipo di battaglia politica che non deve mai prevaricare quello che è l'aspetto politico, che è l'interesse che abbiamo tutti quanti per il nostro territorio. Purtroppo non ci sono state soltanto gratificazioni e una battaglia leale, ci sono stati anche dei colpi bassi, che però credo che poi queste persone ne pagheranno il conto, anche in questo ballottaggio. Parliamo proprio di ballottaggio, in questi giorni si assistono delle scene di incoerenza estrema da un punto di vista politico, passaggi molto facili da una corrente all'altra. Quale indicazione le ha data la lista dei cittadini? Io voglio fare prima una prefazione. Teniamo conto che è vero sì che gli apparentamenti possono essere definiti per legge, ma io credo che c'è una legge scritta e c'è una legge morale. La legge morale deve fare in modo di non far prevaricare una classe politica quello che è stato il risponso elettorale. Noi avevamo posto, ed è così, ai nostri votanti, ai nostri elettori, avevamo posto libera scelta. Naturalmente in questa libera scelta, la mia libera scelta sarà quella di votare il dottor Di Trani, perché credo che quello che è successo a Pisticci sia un fatto molto molto negativo e che potrà segnare la storia in negativo di questa comunità. Quindi anche dall'esterno, se andremo ancora a parlare della lista dei cittadini, si può fare politica anche stando fuori? Noi siamo partiti già nel 2007 facendo politica fuori dal Consiglio Comunale e poi ci siamo trovati dentro proprio perché la gente ci aveva riconosciuto serietà, capacità e anche voglia e passione per la politica e per l'interesse del territorio. Noi continueremo, siamo già impegnati con il referendum, ma ci sono anche altre cose che vogliamo mettere in campo perché credo che la politica non si debba fare soltanto nei 15 giorni della campagna elettorale, ma debba essere un motivo, un'azione seria, quotidiana che ognuno di noi che è interessato deve intraprendere. D'altro canto purtroppo abbiamo assistito in questa campagna elettorale che ci sono stati i cosiddetti redi vivi, quattro anni assenti e distanti dai problemi della gente e poi sono rientrati e sono rientrati per dichiarare che loro erano la salvezza per questo territorio. Per certi aspetti sono soddisfatto del risultato elettorale, per altri no perché credo che il voto di opinione ancora non è tanto. Io credo di portare in me una missione che è quella di far capire alla gente che votare con coscienza significa garantire un futuro non soltanto per se stessi ma anche per i propri figli. Allora alle nostre spalle c'è l'ospedale Angelina Llorico di Tinco e Rocco Caramuscio insieme anche al padre hanno vissuto questi momenti drammatici della lotta. Quali prospettive future si augura? Guardi, in verità io ho cercato di tenere un profilo molto basso in questa battaglia pur essendo molto molto vicino al gruppo dei cittadini che si è appreso, si è arrogata la responsabilità di sostituirsi a una classe dirigente politica assente. L'ho fatto apposta perché ricomprendo un ruolo istituzionale, nessuno doveva pensare che poteva essere un inizio di campagna elettorale da parte mia. Però il mio impegno è stato proficuo non soltanto nel sostegno del gruppo e della comunità ma anche per i ripetuti contatti con l'assessore Marturano sia a Matera, alla presenza del presidente Stella, sia sono stato invitato in quarta commissione a discutere di una proposta di piano che io stesso avevo redatto. e quindi tutto questo ho cercato di tenerlo lontano dai riflettori proprio perché credo che una cosa che mi caratterizza è la serietà e l'onestà. Bene, grazie e invoca al lupo per la prossima attività. Grazie.